musica 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 ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono andati su minecraft e neanche games e soltanto io perchè e quindi adesso aspettiamo qui nella lobby poi faremo delle partite agli anger games ok qui siamo alla prima partita degli anger games siamo pronti a iniziare 3,2,1 via! corri 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 dai dai che ho appena coltato mio 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 capo 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 come si vengono scappa ahahah tu non sei niente conmigo trai vincere io muovete muovete si encontrano spada ma si la mata la mata la mata la mata la mata con la mata infilo la mata no ahahah bellissimo come morto ho rischiato anch'io morire però mi sono morto cavolo adesso mi sa assolutamente cibo si si mi sa perchè sto proprio morendo sta morendo sto solo ancora una coscia ma se ancora qualcuno muoio perchè non sono una spada e sto mezza vita allora non c'è non è non c'è mai nessuna data ancora uu 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 come ho fatto bene quella lì? ma dai non ci credo c'è ma cosa mi ha ucciso perchè io non ho cagare ok siamo alla seconda partita sempre in mappa che io non conosco e siamo in una marea siamo in 33 quindi è difficile guardare qualcosa e vabbè già qualcuno può passare muori scappa oh almeno ho il cibo che 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 si sa messi mai prima c'è poi già cosa si è fatta via dove saranno le test eh vabbè dai c'è uno che mi segue che hanno messo così niente niente bella ok bene adesso l'abbiamo trovata c'è un po' di armatura o almeno c'è un po' di armatura e un cibo che mi servirà più avanti quando c'ho due tacche di fame qua dai qua c'è qualcosa perché adesso potrebbe fermarsi per un pochino credo almeno no dove si trova una spada o qualcosa sono veramente fregata dove è andata eccolo eccolo qui ha pure buttato via l'alco scusami andami almeno no ma che dice kill ok non si crede mi ha lasciato fare uno uccidere dai prima montagna dai adesso no no non c'è niente una montagna qualche c'è qui devi scontare un dead guard va cosa c'è qui niente cosa ci sono? c'è giù tutta la mappa non ho trovato una ma c'è qui ci sono andata io qui ci sono andata no qui qui no da qui forse c'è una certa non c'è c'è la vanno presa gli altri eccola una no non l'ho presa perfetto oh eh eh sono matto eh è la più forte di me cos'è qui? oh guarda questa parte qua guarda che c'è no no presente che mi ha ucciso eh eh ok quindi la seconda partita niente allora il video finisce qui se vi è piaciuto dovete sempre allunciare iscrivetevi commentate lasciate anche la pagina di facebook che mi avete trovato il piace anche lì e noi ci vediamo con il video ciao a tutti raga ciao a tutti